Diciamo che è bello, proprio oggi, doppietta al Vente Godi, decisiva per l'ingresso del Verona ai play-off. Bel gol e poi ti sei preso la responsabilità del rigore. Anzitutto sono contento per la doppietta perché la dedico ai miei compagni e alla mia famiglia, sono sempre stati vicini a me in questa stagione difficile. Era importante soprattutto per arrivare ai play-off perché ci teniamo tanto e adesso dobbiamo rimborcarci le maniche e fare un grande play-off. Ha fatto un gol, il primo in particolare da attaccante Verona, di forza c'era tutta la tua rabbia lì dentro. Assolutamente sono contento, ho detto anche se è un bel gol, ma ne ho fatti tanti così, quindi sono contento di averlo fatto oggi perché per me è importante sbloccarmi e dare una mano alla squadra. Adesso è un nuovo inizio per il Verona e per te perché due mesi difficilissimi, pochissimi punti fatti, però siamo comunque lì e ce la giochiamo. Sicuramente è un nuovo inizio, questo è un nuovo mini campionato e quindi dobbiamo dare tutto per fare un super play-off.